Riportare le auto in piazza Sant'Agostino. L'ipotesi più volte ventilata si fa concreta con l'ordine del giorno che verrà discusso nella seduta del Consiglio Comunale di Salerno in programma martedì 11 giugno. A motivare la richiesta è il problema della sosta nel Comune Capoluogo ed in modo particolare nel centro della città. Con il ricorso tra il primo e il secondo classificato alla gara per il completamento dei lavori di Piazza della Libertà, l'unica certezza è che si allungano i tempi per la consegna del cantiere e quindi l'apertura nel cuore del Comune Capoluogo di un bacino considerevoli di posto per parcheggiare l'auto. Ma il Comune di Salerno conosce bene il problema e come assicura l'assessore alla mobilità del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, si sta lavorando su più fronti. I lavori relativi al parcheggio interrato, la proposta dei progetti di finanza è stata già licenziata da un po' di tempo, gli operatori in questi giorni presenteranno il progetto esecutivo per dare via poi alla fase vera e propria di attività. Le fasi fino ad oggi svolte sono state quelle delle indagini preliminari, quindi con carotaggi, liberare l'area da piantumazioni che sono state poi risistemate in altre zone che poi verranno ripiantumate nello stesso ambito. Quindi conclusa questa fase ci sarà la consegna della progettazione esecutiva e poi l'apertura della fase realizzativa del proposto così come è stata poi approvata in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda poi il sistema complessivo del parcheggio in Piazza Sant'Agostino ci saranno discussioni in Consiglio Comunale, c'è un invito ad una riflessione su come risolvere questo problema contingente che è legato alla problematicità di avere parcheggio a disposizione del centro storico. Resta chiaramente sullo sfondo la soluzione che è quella di Piazza della Libertà che purtroppo aveva tempi un po' diversi da quelli che avevamo immaginato in funzione di un ricorso che c'è stato e quindi il relativo pronunciamento è stato traslato al 18 settembre. Noi nelle More stiamo attivando una serie di soluzioni alternative come quella per esempio di incentivare l'uso dell'area del parcheggio di Via Ligea che in estate e pomeriggio prevalentemente non viene particolarmente fluida però chiaramente garantendo un servizio di navette e di collegamenti con quell'area. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa con Bus Italia e capire come mettere in esercizio una proposta di questo tipo e capire anche come razionalizzare nelle condizioni date anche perché in questo momento ci sono i lavori in corso a Molo Manfredi anche le aree all'interno del porto. Sono tutte queste soluzioni diciamo legate alla contingenza ma quando il complesso dei parcheggi previsti entrerà nella sua funzionalità chiaramente le risposte saranno assolutamente esaustive.